... Missy Stonfire? Efficinia, Efficinia! Ho seguito attentamente le sue istruzioni ma i miei fiorillini sono tutti morti i miei bambini non so più cosa fare mi aiuti la pr... le sembra un fottutissimo giardiniere che razza di padre è lei che si traveste da donna davanti ai suoi bambini e ha parlato quella che dà la piccia di cane ai suoi, di bambini tu, tu se non se ne va le faccio vedere cosa sotto Daniel, tu sei un diavolo un diavolo, un diavolo ma va a fanculo vecchia bagascia e poi non so più farla più e poi non so più